Per la tua ospitalità, per il tuo invito e grazie per questa prima riunione molto proficua che abbiamo avuto. Per me è la prima volta ad Ankara e sono particolarmente felice di essere qua. Sono 24 ore in Turchia, molto intense per noi, anzi qualcosa meno di 24 ore. Sono ore intense sia dal punto di vista politico e geopolitico che dal punto di vista delle questioni economiche e commerciali che affronteremo più nel dettaglio domani a Istanbul. Molto brevemente lasciatemi innanzitutto augurare buon lavoro alla Turchia nella guida del G20. È molto importante, lo abbiamo visto quest'anno in Australia, la presidenza australiana ha insistito sui temi della crescita che ormai sono un patrimonio condiviso da tutti, da quasi tutti, via, non proprio da tutti, da quasi tutti. Credo che sia un fatto molto molto importante che la presidenza turca da qui al novembre del 2015 possa fare un grande lavoro sui temi degli investimenti, sui temi dell'inclusione e credo che sarà un G20 molto importante e l'Italia è a disposizione e al fianco dei nostri amici turchi per lavorare insieme. Credo che sia fondamentale per noi ribadire qui quello che il nostro Paese ha sempre detto, i miei predecessori hanno sempre detto e che anch'io rinnovo come ho rinnovato il 5 settembre in Galles durante il vertice Nato, vale a dire a nostro giudizio è fondamentale che il percorso dell'adesione all'Unione Europea della Turchia prosegua, ci sentiamo impegnati perché questo percorso vada avanti e da parte nostra noi faremo ogni sforzo perché l'Unione Europea apra con maggiore determinazione i nuovi capitoli negoziali, il 17esimo, il 23esimo, il 24esimo e contemporaneamente che la Turchia, ne abbiamo parlato con il primo ministro, con il ministro competente, continui nel percorso di collaborazione come ci è stato oggi più volte riconfermato. Ho espresso gratitudine al primo ministro e al governo turco per il lavoro che viene svolto nei confronti dei profughi e dei rifugiati. Do un numero ai giornalisti italiani. Noi abbiamo grandi dibattiti in Italia, come è giusto, naturale che sia, per il numero molto alto di profughi che arrivano dal Nord Africa, mi riferisco in particolar modo alla Libia. Sono nell'anno di massima esposizione, nell'anno di massima forza quasi 150.000. Bene, è un tema delicato e dobbiamo affrontarlo. Pensate però che la Turchia ha a che fare con circa 2 milioni di profughi e per questo motivo credo che sia importante che ci sia un supporto della comunità internazionale. Ho altresì sottolineato al governo turco il lavoro che noi abbiamo svolto, anche nella veste dei presidenti dell'Unione Europea, a Baghdad, a Erbil e più in generale nella gestione della grave crisi siriana e irachena. Il nostro cuore piange per Aleppo, per Kobane, per le città che sono città oggi sotto uno stato di assedio e noi pensiamo che oggi siano in ballo i principi fondamentali, la libertà, il diritto alla vita e all'esistenza di intere comunità. Per questo motivo trovo importante che l'alleanza internazionale, la coalizione internazionale sia sempre più forte e questa alleanza internazionale, questa coalizione internazionale può vedere un ruolo cruciale da parte di Turchia e Italia in tante zone del Mediterraneo, ma soprattutto in Libia. Abbiamo bisogno di agevolare ogni sforzo perché in Libia si torni al dialogo, perché in Libia si sconfigga il terrorismo e si preservi quel paese dal terrorismo e contemporaneamente che le varie realtà in campo si aprano a un dialogo costruttivo con l'aiuto di tutti i paesi. Noi siamo confidenti che la conferenza di Istanbul, organizzata dal governo turco, sia un successo e dal giorno dopo, anche prima, ma diciamo dal giorno dopo, con maggior ragione, siamo disponibili a lavorare insieme per affrontare le questioni così importanti e così strategiche. Sapete che sul tema del Mediterraneo per l'Italia avremo anche modo di approfondire, si gioca una partita assolutamente cruciale e rilevante. Abbiamo parlato, come ha ricordato il primo ministro di Cipro, abbiamo parlato dei Balcani, ed è un altro tema di grande importanza, Balcani e Mediterraneo sono due aree su cui il nostro paese, l'Italia, ha impostato la strategia di questi sei mesi di presidenza e la Turchia è in entrambi i casi assolutamente collegata. Infine, per chiarezza numerica, anche se ne parleremo domani, voglio dire ai giornalisti italiani che oggi ci sono circa 1200 aziende italiane che lavorano in Turchia, il volume dell'interscambio ha sfiorato i 20 miliardi di dollari, il Business Forum Italo-Turco sarà domani una importante opportunità, assieme ad altri momenti di visita ufficiali. Io credo che sia fondamentale che si possa investire per le prossime generazioni in un più stretto rapporto tra questi due paesi. E da questo punto di vista trovo, e ho concluso, particolarmente interessante il riferimento fatto dal mio collega sulla Università Italo-Turca e più in generale sullo scambio tra studenti universitari italiani e turchi. Da questo punto di vista trovo l'Ambasciata assolutamente pronta a lavorare, già fu fatto in questi anni, lo farà anche nei prossimi, ma dobbiamo anche lavorare di più come governo italiano da Roma con il Ministero dell'Istruzione e dell'Università perché ci siano maggiori opportunità per gli studenti di questo paese e per gli scambi culturali tra le università. Ho detto scherzando, sono circondato da ambasciatori perché abbiamo una prima fila di numerosi ambasciatori che la diplomazia del futuro non è soltanto degli ambasciatori o dei businessmen, la diplomazia del futuro è una diplomazia che si affida anche agli studenti e alle esperienze di vita che i singoli studenti possono fare. Per tutti questi motivi, grazie di cuore per questo invito e naturalmente l'appuntamento è per il Summit Intergovernativo che si terrà nel 2015 qui, non prima di una visita del Primo Ministro Turco che visiterà Roma ma anche altre città d'arte, indovinati quali? Venezia. M'ho fregato, va bene, perché i giornalisti italiani tutte le volte sono fissati con un'altra città d'arte il cui nome non posso neanche pronunciare. Per cui grazie di cuore, l'appuntamento prossimo è senz'altro a Roma tra di noi e poi il Summit Intergovernativo che si terrà il prossimo anno a Istanbul. Grazie. Ben mani tu. Grazie. Come ho pronunciato la parola, il saluto ai soldati? Come sono... Marabasak. 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 Che vuol dire, so vuol dire... So vuol dire lunga vita. Grazie lunga vita. So. So. Arka da biz de destekliyorduk tabii. Çok teşekkürler. Sayın Özel Tümar, El Cezire Türk. İlk sorum Sayın Konuk Başbakan'a. Türkiye'nin uzun süredir beklediği açılmasını, chapter'lar konusunda bize bir zaman verebilir misiniz? Ve kaç chapter, hangi chapter'ları beklemeliyiz? Fasıllar. Sayın Başbakan, diğer sorum size. Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi de Mistura'nın bir planı var. Dondurulmuş bölgelerden bahsediyor. Ve Türkiye'de de geçen günlerde temaslarda bulundu. Sizin bu plana ilişkin değerlendirmeniz nedir? Türkiye'nin güvenli bölge önerisini karşılayabileceğini düşünüyor musunuz? Ve Antep'teki temas takonusunda Türk hükümetine bir bilgilendirme ya da değerlendirme yapıldım? Rispetto alla domanda rivolta a me, sull'apertura dei capitoli ancora aperti, è evidente che noi ospichiamo che il 2015 sia l'anno decisivo. Nel documento finale del Consiglio Europeo che si trarà il 18 e il 19, anzi forse solo il 18, da come mi hanno detto, perché pare che col nuovo Presidente si possa ridurre la durata dei Consigli Europei, che è una cosa positiva, per quando arriverai anche tu ai Consigli Europei vedrai che se li facciamo più corti è un fatto molto positivo. Dovremmo avere nel documento finale al quale stiamo lavorando un passaggio di ulteriore stimolo, è una fase di negoziazione. Il 13 gennaio si concluderà il semestre di Presidenza italiana, voi sapete che si conclude formalmente il 31 dicembre, ma il 13 gennaio è il giorno in cui il Governo italiano va a Strasburgo per pronunciare il discorso di fine mandato, quindi quello è il giorno che possiamo considerare il giorno di fine mandato del semestre italiano e in quella sede io sottolineerò ancora l'importanza dell'allargamento legato peraltro alla Turchia e a alcuni Paesi dei Balcani. Nel caso della Turchia è una vicenda che va avanti ormai da moltissimi anni, mi auguro che con la nuova Commissione, con la determinazione del Presidente della Commissione e del Presidente del Consiglio Europeo possano essere i primi mesi del 2015 i momenti chiave per aprire la discussione finale sulle questioni che lei conosce. Buonasera Roberto Ginza di Tg1, al Primo Ministro della Turchia volevo chiedere in quanto leader del G20 in questo momento l'impegno della Turchia sul versante della crescita dell'economia mondiale. Al Presidente Renzi l'impegno per le aziende, per la modernizzazione del Paese per attrarre investimenti, domani sarà il Business Forum, nello stesso momento in Italia ci saranno alcuni sindacati che metteranno in atto uno sciopero generale. Sindacati che tra l'altro accusano il Governo di fomentare il conflitto sociale. Come si concilia questo con lo sforzo del Governo appunto di modernizzare anche con le Jobs Act, il mercato e l'economia? Domani in Istanbul noi vedremo alcune aziende che stanno facendo investimenti importanti, daremo un segnale di forte stimolo agli investitori che stanno in Turchia ma anche quelli che stanno in Italia e naturalmente lo facciamo perché vogliamo creare i posti di lavoro, perché vogliamo far sì che il Jobs Act non sia soltanto un insieme di regole ma sia un'occasione per l'Italia per tornare ad avere il segno più davanti. Da tre anni l'Italia è in una fase di crescita negativa, nel 2012 l'Italia ha fatto meno 2,3%, nel 2013 meno 1,9%, nel 2014 siamo per il momento a meno 0,3%. Abbiamo cioè ridotto il gap con gli altri Paesi ma purtroppo ancora abbiamo il segno meno davanti. Noi vogliamo toglierci il segno meno davanti e lo faremo. Lo faremo con le riforme, lo faremo con la determinazione di tutti, lavoratrici, lavoratori, imprenditrici, imprenditori, artigiani e persone che hanno voglia di investire sul nostro Paese. Naturalmente è del tutto legittimo che ci possano essere delle manifestazioni di protesta, degli scioperi. Lo sciopero generale è un momento di alta protesta ma al quale noi dobbiamo avvicinarci con profondo rispetto. Per cui spero che si possano risolvere le polemiche che ci sono state in queste ore tra il Ministro delle Infrastrutture e il Segretario della CGL. Ho sentito ieri Lupi, mi ha detto che era in contatto con Camusso e che avrebbero presumibilmente trovato una soluzione. Spero che questo accada. C'è un diritto allo sciopero che è sacrosanto, costituzionalmente garantito e che noi rispettiamo. Il fatto che io non sia d'accordo con lo sciopero non significa che noi non facciamo di tutto perché lo sciopero di domani sia una grande manifestazione di protesta contro il nostro Governo ma assolutamente ben organizzata e ben gestita. Io sono assolutamente certo che conoscendo le organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero nel rispetto delle opinioni diverse che abbiamo tutto domani fiderà liscio. Quindi profondo rispetto per i sindacati per quei sindacati che fanno sciopero non la pensiamo come loro cambieremo il Paese anche per loro ma rispetto alla gestione e organizzazione dello sciopero massima collaborazione istituzionale massimo rispetto e spero che la discussione e le incomprensioni che ci sono state nella giornata di ieri tra il Ministro Lupi e il Segretario Camusso che non derivano tanto da vicende personali ma da un parere dell'autorità di una delle tante autorità del nostro Paese bene, spero che siano risolte nelle prossime ore noi lavoriamo perché tutto fili al meglio e nel frattempo domani staremo come tanti italiani a lavorare perché crescano le prospettive di sviluppo domani peraltro avremo un Consiglio dei Ministri anche pieno di tante notizie importanti a partire dai provvedimenti sulla corruzione per cui come vede rispetto a chi fa sciopero noi lavoriamo buon lavoro a chi lavora e in bocca al lupo a chi fa sciopero con rispetto e senza polemiche Lei nei suoi viaggi all'estero ormai ci ha insegnato parla spesso delle riforme strutturali che sta attuando il suo governo perché sono un passaporto per ottenere maggiore credibilità e insomma investimenti quello che accade nel Parlamento italiano con le divisioni di ieri sulla legge elettorale questo arrancare delle riforme nel nostro Parlamento possono secondo lei rallentare troppo le nostre riforme l'attuazione delle riforme e possono spingere a pensare a una fine anticipata della legislatura o no grazie l'Italia è impegnata in un cammino di riforme molto importanti noi stiamo cambiando nel giro di nove mesi costituzione legge elettorale sistema fiscale che è particolarmente complicato in Italia pubblica amministrazione mercato del lavoro e quella che per noi è la riforma principale di tutti che è la scuola e l'educazione perché è lì che si gioca il futuro di un paese queste riforme stanno marciando ci sono talvolta incidenti di percorso ieri è accaduto in una commissione alla Camera sulla riforma costituzionale che su un emendamento il governo è stato battuto recupereremo in aula perché non è possibile fare soluzioni pasticciate è perché questo voto è stato considerato un voto come segnale politico così oggi alcuni dei deputati che si sono espressi in questa direzione hanno definito il loro voto dei segnali politici il Partito Democratico parlerà in modo molto chiaro domenica 14 durante l'Assemblea Nazionale la riforma costituzionale andrà in aula alla Camera nel mese di gennaio e rispetterà i termini previsti come è giusto e doveroso che sia per quello che mi riguarda la legislatura finisce nel febbraio del 2018